Venerdì alle 21, manifestazione a sostegno del dirigente scolastico Abadi Alpino dopo le firme raccolte, questa volta un'idea che è nata direttamente dai ragazzi. Sì, finora hanno parlato le insegnanti, i genitori, i rappresentanti dei genitori e il consiglio d'istituto. Però a gran furore vogliono parlare anche ai ragazzi e esprimere la loro solidarietà, perché queste 1300 firme raccolte fino ad ora hanno firmato chiaramente soltanto i genitori e i cittadini. I ragazzi sono stati messi un po' a disparte e con questa manifestazione che facciamo venerdì sera alle 9, vogliamo dare libero sfogo a questi ragazzi che hanno a cuore le sorti della nostra preside Santini. E' un grande attaccamento nei confronti anche da parte degli studenti. Certo, certo, perché quando una persona è veramente in gamba e è una persona capace, allora tutta la comunità si stringe accanto a questa persona. E ci duole anche pensare che il Ministero, per un errore suo, voglia licenziare questi 112 dirigenti d'istituto. Ma dico io, ma con che coraggio? La parrocola non vi lascia tranquilli? No, non ci lascia per niente tranquilli, noi ci siamo mossi, appunto queste firme, abbiamo andato sia al Presidente Renzi che alla Giannini, Ministro della Pubblica Istruzione. Ora facciamo questa manifestazione sempre con i genitori e gli alunni e poi proseguiremo sempre più avanti. Appuntamento venerdì alle 21 alla Scuola Media di Badia Alpi. Benissimo, vi aspetto tutti. Aspettiamo numerosi venerdì. Grazie. Grazie.